L'ambiente serale di Bologna Business School ti trasmette i valori e le competenze necessarie non solo al miglioramento della tua pratica lavorativa ma anche all'estensione dei tuoi orizzonti manageriali. È un percorso formativo in grado di fondere tecniche concrete e creatività imprenditoriale che ti aiuterà ad affrontare le sfide del futuro.